Siamo in diretta, direttamente dalla socialia, da Sora, dalla fraschetta, puoi rimanere un applauso? E qui le tradizioni ancora hanno un grande significato, lo volete vedere? Ecco perché... ... ... ... e che la mia stessa vanno a lavorare, che la mia stessa vanno a lavorare. La mia stessa vanna che c'è volta, se lo sa più non sa questo la qua, se noi del primo e noi del vado, si ha questo lato a chi non c'è la gamba, ma se lo so di tutti i miei, che la mia stessa vanno a lavorare, il primo e tutti i miei voix che l'avено ve söylavano. La nuova a chi va, se lo so di tutti i miei, se lo sa più non senti dovuty, ma dai del はいni gaspini, tutto, se lo sa più vale allora sia questo la via, se lo sa più non c'è la gamba, se lo sa più non risolvono. Se lo sa più non c'è la gamba, se lo sa più non c'è la gamba, il nostro si chiama Massimo 1, 2, 3 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 Massimo 2, 3 Massimo 1, 2, 3 Massimo 1, 2, 3 Massimo 2, 3 Massimo 1, 2, 3 Massimo 1, 2, 3 Massimo Massimo 2, 3